Per la seconda volta i ladri prendono di mira la sua casa nel centro storico di Ariano. In questo caso però lui era all'interno e lo spavento è stato fortissimo. Nel cuore della notte ha sentito dei rumori, si è alzato e si è accorto che stavano scappando via. Un intellettuale d'altri tempi, ultra novantenne, ostinato nel voler continuare a vivere da solo. Un patrimonio di libri e documenti storici inestimabile, ma quello i ladri non lo hanno nemmeno guardato. Cercavano denaro e preziosi, gli è andata male. L'abitazione dell'anziano era stata del tutto depredata nel furto precedente. In quell'occasione lui non era in casa e i ladri riuscirono a portare via un bel bottino, circa 30.000 euro risparmi di una vita, inoltre orologi di valore ed altri oggetti. Ebbero gioco facile, entrarono da una finestra sollevando la tapparella. Questa volta è stato più difficile, ma i ladri non si sono fatti scoraggiare dalle inferriate installate dopo il primo furto e nemmeno dal fatto che l'anziano fosse in casa. Si sono infilati da una sorta di lucernaio al di sopra del portone e hanno frugato dappertutto. Hanno trovato qualche dollaro, qualche sterline, circa 120 euro. Per fortuna il professore non si è svegliato prima, altrimenti saremmo qui a raccontare una storia diversa. Sui due furti indagano gli uomini del commissariato di Ariano.